Sindaco, avete individuato la soluzione definitiva del tracciato della ciclovia del Metauro, dunque è partito l'iter amministrativo. Sì, diciamo che non siamo più in una fase dei buoni propositi e degli intendimenti. Abbiamo dato concretezza alla fase operativa e quindi all'avvio dell'iter amministrativo, finalizzato alla realizzazione del primo tratto della ciclovia turistica del Metauro, ovvero il tratto Fano-Cartoceto. Abbiamo definito quelli che saranno i passaggi, ovvero questo schema di programma che è stato al momento abbozzato da tutti gli enti coinvolti e ovviamente primi fra tutti dalla Regione Marche. I rispettivi comuni dovranno adesso approvarlo in giunta, poi dei corsi termini canolici di pubblicazione, adottarlo anche in Consiglio Comunale, passaggio quest'ultimo che rappresenta anche la variazione allo strumento generale urbanistico. Dopodiché, ovviamente, una volta notificati da parte dei comuni i decreti di esproprio, la Regione Marche potrà bandire la gara d'appalto per arrivare ad affidare i lavori. Per quanto riguarda Cartoceto, da dove partirà il percorso? Si sviluppa sostanzialmente dal confine con il Comune di Fano, nella frazione di Ponte Murello, in prossimità del corso d'acqua minore Rio Secco, per poi costeggiare il tracciato ferroviario della Fano Urbino, oltrepassa il quartiere Madre Teresa di Calcutta, via Casello, costeggia via Circombalazione Kennedy, per poi giungere quasi praticamente al confine con Coglio a Metauro, in concomitanza con via Caduti sul Lavoro. Una pista ciclopedonale che potrà avere anche dei risvolti positivi? Sicuramente molto, molto positivi. Penso ovviamente all'incremento di quella che è la cosiddetta sostenibilità della mobilità interna, penso alla sicurezza con la quale cittadini e famiglie potranno muoversi tra costa e dentro terra e pensiamo ovviamente, limitatamente a questo primo tratto, a qual è il legame e lo scambio quotidiano tra il territorio della città di Fano e quello del Comune di Cartoceto. Non da ultimo, ovviamente, senza dimenticare quello che invece potrà essere l'opportunità per ciò che riguarda i percorsi e circuiti legati al cicloturismo. Non penso soltanto a quello che potrà svilupparsi lungo il tracciato della ciclovia turistica del Metauro, ovviamente non soltanto limitato a questa prima fase, cioè a questo primo tracciato, ma pensando anche a quello che sarà lo sviluppo futuro fino all'entroterra della ciclovia, ma ovviamente anche a tutti quelli che potrebbero essere i circuiti cosiddetti a pettine, cioè dalla vallata del Metauro per raggiungere i nostri splendidi borghi che costituiscono ovviamente l'identità della nostra provincia.